Ci sono momenti in cui è necessario testimoniare con le proprie idee, con la propria testa, con i propri corpi, che coloro che vogliono distruggere deva stare arcuata, se ne devono andare una volta per sempre, noi siamo pacifici, noi vogliamo solamente tagliare quelle reti. Mia donna partigiana me l'ha insegnato, alla pianura un solo grido a Sara Dura, mia donna partigiana me l'ha insegnato, l'eredi non è reato. Mia donna partigiana me l'ha insegnato, l'eredi non è reato. Viva la storia! 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 La storia archeologica non è più cantiere che vada archeologica! Giù le mani dalla nostra terra! Giù le mani dalla nostra terra! Giù le mani dalla nostra terra! Sì, Maria, vanno più a me! Vai, andate, Maria! Voi, andate, Maria! Voi, andate, Maria! Voi, andate! Maria, tira sulla Marina! Voi, andate! 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 Non è vergogna niente? L'Oriore Veneti non è reato! Giù, 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 dalla nostra terra! Giù, giù, giù! Noi dovremmo pensare che la gente c'era qui, doveva venire qui, se faccia così noi! Eh niente, stavamo andando verso Radimero e poi i carabinieri si sono messi a pestare come bestie, cattivi come l'aglio, non capiscono per quale ragione dovevano essere così cattivi, che io non ho mai fatto male a una mosca anzi! Quelli lì si sono messi a pestare come bestie, non so cosa si avevano in testa, pensavano di ammazzarci, eh la madonna! Ma potevano farne meno e di ammazzarci quelli lì! Ditelo al prefetto, ditelo al questore, ditelielo di non mandare certi animali in giro, ditelielo!